Mirko Patrona, sindaco di Campo d'Arsego, chi era l'imprenditore che questa mattina purtroppo ha fatto l'estremo gesto? Era una grande persona innanzitutto, prima di essere un grande imprenditore, una grande persona che amava il proprio territorio in cui era nato e aveva creato la sua azienda. Perché lui è uno che non ha ereditato l'azienda ma l'ha fatta crescere, lavorava in una stalla quando mi raccontava la storia e ha cominciato a fare i primi mezzi, i primi attrezzi all'interno della propria stalla. È cresciuto ma è sempre restato se stesso, è una persona che non ha mai cambiato perché lui voleva bene ai propri dipendenti, per lui i dipendenti erano una risorsa, la propria famiglia la legata. Dunque è difficile non dimenticare una persona del genere perché voleva bene al proprio territorio, tanto lui voleva proprio restare qua, nonostante avesse uso grosse offerte, di spostarsi con l'azienda anche spendendo meno per l'insediamento, lui diceva io sono nato qua e naturalmente terminerò la mia vita imprenditoriale nel mio comune. Dunque è una persona straordinaria, non ci sono parole per descriverlo perché dava la carica a tutti. Sindaco, molto amato nel territorio, ha anche grande cuore per quanto riguarda donazioni e aiuti, abbiamo sentito un po' la cittadinanza e molti tra loro sono stati aiutati da questa persona generosa. Sì perché lui diceva sempre io sono figlio di un povero ma di una grande persona, dunque ha mantenuto lo stile di vita che aveva quando era giovane e quando aveva naturalmente i propri genitori e queste cose ha sempre portato a fare il bene per il territorio in cui vive. Lui aveva parole per tutti, riusciva a sorridere a tutti e ad aiutare tutti. E questo era il suo spirito, bisogna ricordarlo così perché una persona del genere non è facile incontrarla. Sindaco, che idea personale si è fatta su questa scelta estrema? Ma questo non lo so, penso sia un interrogativo che ognuno di noi non aveva mai la risposta perché è vero che in questo momento le aziende sono tutte in sofferenza, per lui aveva un grande carattere e quello che mi sorprende è proprio questo che non si era mai fermato davanti a tantissimi altri momenti difficili. Non lo so e questo io voglio ricordarlo per quello che è stato perché lo ritengo sia stata una grande persona.